I cinque regni dei viventi Noi oggi andremo a vedere Il regno delle monere Ok, intanto partiamo dalla parola monere Cosa significa? Monere è una parola che deriva dal greco E vuol dire semplice Infatti questo regno comprende degli organismi viventi molto semplici I più semplici che ci sono sulla terra E anche i più piccoli I batteri I batteri sono stati i primi organismi comparsi sulla terra Ricordate ancora il Big Bang e la formazione della terra? Bene Loro sono apparsi 3 miliardi di anni fa Nelle acque dei primi oceani In quel periodo l'aria era irrespirabile per qualsiasi vivente Perché non c'era molto ossigeno Anche a causa delle molte eruzioni vulcaniche Ebbene I primi batteri riuscirono Non solo a trovare il modo di sopravvivere E di riprodursi anche in quell'ambiente così ostile Ma riuscirono a migliorarsi E ad evolversi Perché iniziarono A produrre Esse stessi L'ossigeno Come? Assorbendo la luce del sole Per la fotosintesi clorofuniana Come fanno oggi le piante E iniziarono ad arricchire l'atmosfera primitiva Di questo prezioso elemento L'ossigeno Che consentì poi agli altri viventi di svilupparsi I batteri si trovano praticamente ovunque Nell'aria Nel terreno Nell'acqua E persino dentro altri viventi Noi compresi Ma anche nei cibi Alcuni riescono addirittura a vivere dove c'è pochissimo ossigeno E quindi non possono vivere altre forme di vita Soltanto loro Come ad esempio dove fa molto 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 freddo O nelle profondità della terra Spesso vivono in colonie Cioè fanno gruppo Vivono insieme ad altri batteri Sono gli esseri viventi Più diffusi sulla terra Pensate che la metà dei viventi È costituita solo da batteri Un altro esempio che fa un po' paura In un solo cucchiaio di terra Si possono trovare miliardi e miliardi di batteri Sono così piccoli Che si possono vedere Solo il microscopio Ma non i microscopi che abbiamo a scuola per capirci Sono microscopi molto potenti Quelli ad esempio che ci sono nei laboratori scientifici L'uomo conosce i batteri da poco tempo Perché le loro piccolissime dimensioni Non consentivano di poterli vedere ad occhio nudo E appunto sono stati scoperti solo quando è stato inventato il microscopio E ora scendiamo un pochino più nel tecnico Sono degli organismi unicellulari Cioè formati da una sola cellula Il mattoncino della vita Quindi una sola cellula Ma molto semplice Pensate che non ha nemmeno il nucleo Si dice che sono degli esseri prokarioti Cosa vuol dire prokarioti? Che sono formati da una sola cellula molto semplice Prokariote Una cellula semplice Il contrario di eucariote Una cellula complessa Quindi anche questo ci fa capire Che sono meno organizzati E meno evoluti di altri viventi Ecco Ma I batteri Sono buoni O cattivi? Di solito sentiamo parlare di loro Come quelli cattivi Nocivi Che ci fanno star male Che provocano malattie E in effetti alcuni di loro sono proprio così I batteri in effetti I batteri che ci fanno star male Vivono dentro altri viventi Li sfruttano Facendoli ammalare E alcune volte morire Ma attenzione Non dovete confonderli con i virus Perché i virus sono un altro tipo di vivente Sono ancora diversi Perché non sono formati da cellule vere e proprie Quindi ora stiamo parlando di batteri Li vedete questi vermicelli Verdini? Ecco Loro sono gli elicobacter pylori Sono dei batteri Che si possono trasferire a vivere nel nostro stomaco Dandoci in regalo Dandoci in regalo nausea e vomito Come fare per non farli venire ad abitare da noi? Facile Lavarsi sovente le mani Con il sapone Molto bene Soprattutto quando si deve mangiare Avete presente quando si scendeva in mensa E vi dicevamo sovente Non toccate i muri Non toccate il pavimento Ci siamo appena lavati le mani Ecco Se dobbiamo mangiare Non dobbiamo toccare tutto quello che ci circonda Dobbiamo avere le mani pulite Comunque Da questa malattia Da questa malattia si guarisce Altro simpatico batterio E' quello della salmonella Sono dei bacilli Hanno questa forma allungata E si possono prendere Mangiando dei cibi contaminati Cioè Che contengono già questi batteri E generalmente La salmonella la possiamo prendere con Uova O carne cruda Che appunto sia però contaminata Non significa Che tutte le uova E tutta la carne cruda Contenga la salmonella Cosa provoca? Mal di pancia Febbre E diarrea Quindi Fate attenzione Non bisogna mangiare Ad esempio Le uova scadute O la carne Che è stata troppo tempo A contatto con l'aria Altro batterio Che conoscete sicuramente bene E' quello della carie Già Perché la carie E' un'infezione Causata da dei batteri Che vivono nella nostra bocca E che si attaccano ai denti E iniziano a produrre Un acido Noi cerchiamo di spazzarli via Lavandoci bene i denti Dopo i pasti Ma se non lo facciamo Questi batteri Riescono ad entrare Nei nostri denti Creando dei buchi Che danno forti dolori Ok 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 Ma non tutti i batteri Sono così cattivi Anzi Alcuni sono molto utili E preziosi Come quelli della fermentazione Cioè Quelli che lavorano Gli zuccheri Che ci sono in alcuni alimenti E li trasformano In delle sostanze alcoliche O acide Partiamo ad esempio Dai lactobacilli Che si trovano Ad esempio Nel latte Ecco Loro trasformano Il latte In Yogurt Proprio attraverso Un processo Detto di fermentazione Ma i lactobacilli Vivono anche Nel nostro intestino E anzi E' bene assumerli Mangiando i latticini Senza esagerare Ovviamente Perché questi batteri Aiutano a proteggerci Da altre malattie Sappiate Che non sono Gli unici a vivere Nel nostro intestino Infatti Ci sono circa 500 tipi diversi Di batteri Che vivono E sono tutti utili Perché cercano Di proteggerci Dagli altri batteri Cattivi Sminuzzano il cibo Che ingeriamo E producono Delle vitamine Che ci fanno Star bene Sempre Batteri Della fermentazione Sono quelli Che trasformano Il vino In Aceto E infatti Si chiamano Aceto batteri I batteri Possono anche Essere utili Per creare Delle medicine Sì Infatti Gli antibiotici Che sicuramente Avrete preso Qualche volta Per combattere Delle infezioni Sono stati creati Proprio grazie Dei batteri Che riescono Ad uccidere I batteri Dannosi E cattivi Ultimi Ma non per importanza Sono i batteri Decompositori Gli spazzini Quelli che si occupano Dei rifiuti Di quelle cose Che nessuno Sa dove mettere Infatti Si cibano Gli organismi Animali E vegetali Ma anche Dei loro Rifiuti E li Trasformano In sostanze Che possono Essere utili Bene Spero che ora Ricordiate tutto Sui batteri